No, ma allora ha messo come acquisto, però Vandana non ci dispiacerebbe, ecco. Giustamente, un parere maschile. Ho visto che Vandana cerca casa a Napoli, se vuole, signora Vandana la trovo io, non c'è problema. Anche se lei cerca Posillipo, un altro locale. Pure un terri quartiere, potremmo fare. Non c'entra mai. Solo mangiano. Vabbè, e niente, questo. Ecco, tu pure sei in attesa di Rogge e Luperto. Sì, so qua, quindi sono in attesa, sì. Alcuni dicono che vogliono proporre uno scambio addirittura tra Insigni e Icardi. Insigni e Icardi no, no, Insigni e Icardi no, assolutamente. E' proprio. Esatto, non esiste proprio. Meglio tenersi che gli amici. Meglio tenersi, insigni, anche perché Icardi nei suoi ultimi comportamenti non è affidabile.